Ciao a tutti, oggi è il primo video, vlog, anzi, che posto su YouTube. Il motivo di questa scelta, di questa idea, è dovuto al fatto che ultimamente, come avete forse visto, se mi seguite su Instagram, sulle storie, sto postando spesso i miei allenamenti. Quindi, con qualche commento, ma devo dire la verità, come sempre, Instagram non è, almeno a mio modo di vedere, la piattaforma più semplice per postare contenuti, perché uno deve mettersi lì a scrivere per ogni storia, sinceramente un po' palloso. E, tra l'altro, le storie hanno un limite di tempo, vengono tagliate, insomma. Però, allo stesso tempo, ho visto che comunque a molti piaceva questa cosa, ho messo anche, mi pare, un sondaggio un po' di tempo fa per sapere se era un format che poteva interessare. E, allora, a quel punto ho pensato, insomma, perché non provare a registrare con un pochino più di precisione e di costanza, magari, anche i video dei miei allenamenti. E, magari, metterli su YouTube. Quindi, quello di oggi è, diciamo, un test. Se questo è un tipo di contenuto, un tipo di format che può piacervi rispetto a, magari, i classici Q&A o i classici video in cui, magari, parlo di argomenti vari, questo, magari, può essere più piacevole per alcuni che vogliono realmente vedere qualcuno che si allena, piuttosto che sentire tante nerdate come quelle di cui, magari, ogni tanto parlo. E, questo è il format per voi. Ok, fatemi sapere poi nei commenti, sui social, su Instagram, se lo guardate, taggatemi. E fatemi sapere se è un format che vi piace. Se è così, cercherò di renderla una cosa, un appuntamento, insomma, settimanale. Vi posso dire che ho già diversi workout filmati, workout completi, sia di spinta che di trazione che di gambe, che di upper. Però, ovviamente, li posterò se, soltanto se, qualcosa che vedo, che reputo, che possa esservi utile e piacevole anche. Ok, questo è un workout che probabilmente non scorderò mai più nella vita, perché è un allenamento alla Dust Gym. Se avete seguito le mie storie, ultimamente, sapete che sono stato a Vienna. E a Vienna c'è questa palestra, che trovate su Instagram, a at intelligent strength. Una delle palestre più belle al mondo. Ne avevo sentito parlare tanto, ne avevo visto tante storie, l'avevo vista citare da tante persone, da tanti atleti che seguo. La mia opinione è che vederla dal vivo è tutta un'altra cosa. È una palestra pazzesca. E, anzi, forse, diciamo, quello che mi sono ripromesso è di tornarci, prima o poi. E non so quando questo sarà possibile, ma vorrei assolutamente tornarci. L'ambiente è totalmente diverso da quello che ho visto qui in Italia. Io mi alleno in una delle palestre migliori di Roma, tra l'altro. Oltre che quella del mio paese. E nonostante, diciamo, anche a parità di attrezzatura, probabilmente la differenza non è enorme tra quella in cui mi alleno a Roma e questa. Ci sono dei macchinari che a Roma ci sono e qui no, e viceversa. Le marche sono magari un pochino diverse, però sono sempre comunque marche top. G-Matey, Hammer. Qui hanno tutti quanti, come vedete, bilanceri e dischi delle Lego, che è una nota brand di weightlifting. Ed è una palestra che, forse a differenza delle altre, combina atleti di alto livello di bodybuilding, powerlifting e weightlifting. Io nello specifico, se vedete, questa è la zona weightlifting dove sto facendo gli stacchi dai blocchi. E avevo vicino una ragazza che faceva i clean and jerk. E, insomma, è un ambiente particolare, è un ambiente bello. Hanno due piani, al piano superiore c'è, praticamente c'è tutta una zona con tappeto verde in cui si possono fare scatti. Ci sono le slit per fare gli sled, affondi, insomma cose di questo genere. E c'è un mix completo di tante cose. Insomma, in questa zona, nel piano terra, ci sono tutti gli attrezzatori da bodybuilding che potete vedere sullo sfondo. Ci sono una miriade di rack, ci sono una miriade di bilanceri di ogni genere. Bande elastiche, catene, cinte di ogni genere. È veramente un ambiente, un ambiente pazzesco. Insomma, non ho filmato magari come dei veri vlogger, insomma, tutta la palestra, quindi non ho modo di farvela vedere. Però potete seguirla su Instagram, insomma, postano spesso delle storie e potete dargli uno sguardo. Chissà che in futuro non avrò modo magari di fare un vlog un po' più serio. Qui vedremo solo un po' di esercizi che ho fatto in questa sessione. È stata una sessione di tirata e partiamo dopo questa intro abbastanza lunga. Allora, qui mi stavo ancora scaldando con delle singole. Questi credo che siano 25, 50, 75, 90. Questi qua erano 200, ho fatto una singola con 200 per sentire un pochino, perché ovviamente quando utilizzate bilancieri diversi o pesi differenti bisogna un po' ritrovare la quadra. E nello specifico, insomma, ho visto che quei 200 erano leggeri, sono passato, ho alzato un pochino. Questi sono 2,10. E ancora, come avete visto, ho cambiato il disco da 15 con quello da 20. Questa è ancora una singola di warm-up. Tra l'altro la cosa figa, tra le tante cose fighe, cioè, se vedete il monitor sullo sfondo, praticamente, se notate, sono proprio i dischi che sto utilizzando io. Perché per l'appunto, praticamente, le telecamere vi filmano e vi rimandano nella televisione durante il workout. Questa è la ragazza invece che stava facendo weightlifting, fianco a me. Con questo tipo abbastanza piccolo, invece sullo sfondo. Questa è la prima serie allenante. Ho fatto, praticamente, un top set qui con 220 kg. Come sapete, se mi seguite, senza cinta. Non stacco con cinta. Che credo che abbia senso, lo ribadisco, insomma, ho detto tante volte, ma credo che abbia senso, se sto cercando di fare un esercizio per la zona lombare, utilizzare qualsiasi strumento che mi aiuti a sforzare i miei lombari, o che mi aiuti a caricare di più, in generale, e con potenzialmente un minor stimolo sulla zona lombare, secondo me è un po' un controsenso. Qui credo di aver chiuso quattro ripetizioni, non li ho contati, mi pare fossero quattro. E poi sono passato a fare delle serie di back-off. Diciamo che la condizione fisica non era il massimo, perché comunque abbiamo fatto tanti passi. Ovviamente dormendo in albergo, insomma, il volo e quant'altro, un po' di stanchezza fisica sinceramente c'era e l'ho sentita. La cosa comoda è che qui hanno proprio questi blocchi per fare lo stacco dai blocchi, e l'ho trovato molto molto comodo piuttosto di fare un rack pull o, insomma, utilizzare dei dischi per avere il rialzo. Questa è la serie di back-off che ho fatto con 200, e qui credo di averne fatte 8 o 9 invece. Con l'esecuzione, insomma, è molto buono. Il motivo dello stacco dai blocchi è, io sono comunque alto 1,84, quindi per me partire da terra è un po' scomodo, è molto limitante nel carico sulla zona, sulla catena posteriore, finisco per sforzare molto le gambe e caricare molto di meno. Oltre che essere complicato il setup di partenza in generale. Mentre con lo stacco dai blocchi a questa altezza, a metà tibia, le sensazioni sono fantastiche, e la posizione, infatti, di partenza è, secondo me, ottimale per quella che è la mia struttura. Il prossimo è, ho fatto un leccarlo seduto, sono stato alla ricerca di un leccarlo seduto per un'ora. Ne hanno diversi, ne hanno tre. Alla fine ho trovato questo qui, che credo che sia della GMATI. Scusate, l'inquadratura non è il massimo. Tra l'altro ero sudato, morto, dopo lo stacco dai blocchi. Ci ho messo, diciamo, qui ho rischiato di rimanere incastrato in una situazione un po' imbarazzante. Per fortuna un leccarla, insomma, con la cinta, come se ne trovano pochi in giro, purtroppo. Il leccarla, come struttura, era molto comodo il macchinario, molto customizzabile, perché, come vedete, qui sulla sinistra ci sono tutti i numeretti per posizionare meglio il pad. Insomma, io lo metto poco sotto il polpaccio. Anche questo delle cosce era estremamente customizzabile, solo che praticamente non ho capito bene il meccanismo per alzare l'asta una volta finita la serie ed è stato un po' complicato uscire da leccarla, diciamo così, per usare un eufemismo. Qui sicuramente potevo spingere più, me ne sono reso conto, diciamo, dopo. Questa è una serie in cui già avevo capito bene il meccanismo, diciamo, nelle serie di riscaldamento sono rimasto incastrato. Ah no, questa è della No Bullshit. No Bullshit, praticamente, credo che sia proprio una loro linea di macchinari, perché è praticamente il brand della palestra, No Bullshit. Questa è un'altra inquadratura, sempre un poco felice. Credo che ce ne sia un'altra dove si vede un pochino meglio il macchinario. Comunque, la cosa ottima, si vede che è una linea fatta da persone che sanno quello che fanno, perché innanzitutto è estremamente customizzabile. Come vedete, qui ci sono una migliaia di buchi per variare la distanza dei pad, cosa che in altri leccarli non avete. C'è una cinta, che sembra una stupidaggine, eppure ci sono pochi leccarle in giro che hanno la cinta. Per esempio, quello che utilizzo a Roma da Life Fitness non ce l'ha, non so per quale ragione. È una cosa così semplice che, se uno testa un macchinario, i macchinari vanno testati quando ci si carica tanto, come in questo caso, per esempio. Mi sembra che fossero 120 kg qua. e va testato con... Ah, quindi quella serie di prima era probabilmente un riscaldamento ancora. Questa invece è forse la prima serie effettiva. Va testato ovviamente con carichi alti, e con carichi alti in un leccarla senza cinta praticamente vi porta via e vi scivolate piano piano e scivolate giù nella seduta, in avanti nella seduta. Ed è molto scomodo e dovete spingere molto con le braccia per rimanere attaccati, diventa scomodo. Quando uno lo testa con buoni carichi se ne rende conto. Ok, questa forse è l'inquadratura meno peggio di quelle che ho messo fino adesso. Qui stavo facendo una serie di back-off. Generalmente con leccarla seduto, essendo rispetto al leccarla sdraiato, dove stabilizzare è veramente impossibile, leccarla seduto, se avete soprattutto a disposizione un macchino del genere, uno riesce a posizionarsi in una posizione estremamente stabile e compatta, soprattutto se avete modo di utilizzare una cinta. e questo permette di utilizzare carichi alti. Quindi, diciamo che rispetto a un leccarla sdraiato, o in quello in piedi, qui non disdegno ripetizioni anche basse. La serie di prima credo fosse una serie da 5,7 o da 5,8 e poi seguono delle serie a ripetizioni un po' più alte. Questa credo fossero una serie da 8,12. E ovviamente poi si possono... Soprattutto per i femorali, almeno personalmente, sento moltissimo le serie a ripetizioni molto alte. E questo è tra i motivi per cui, secondo me, perché una delle mie preferenze è quella di variare i rangi di ripetizioni anche nello stesso esercizio, anche nella stessa seduta. E questo vi permette nel tempo di capire anche quali sono i rangi di ripetizioni, dove riuscite a procedere meglio, dove avete una miglior connessione mente-muscolo, dove avete un miglior feeling in generale col macchinario, con l'esercizio che state utilizzando. E se uno si limitasse a fare, per esempio, tre serie da 6,8, tre serie da 10, 12, non scoprirebbe magari quello che succede sopra le 12 o sotto le 8, insomma, sotto le 10. Poi sono passato a fare questo chest supported t-barrow, estremamente pesante, estremamente pesante, ma si vede, lo immaginavo, perché guardate quanta lunga leva, che distanza c'è del peso rispetto a qua, al punto in cui sto tirando. Molto, molto pesante. La Rita FTS, tra l'altro, è una marca americana molto importante, che fa bei macchinari, fa bella attrezzatura, che non avevo mai provato. Il macchinario era però decisamente, decisamente pesante. Infatti, se vedete, questi sono 40 kg, praticamente li ho sentiti tutti. Però, diciamo che questa, io ho provato diversi t-bar con petto in appoggio. Questo è stato sicuramente il più comodo che ho provato, perché aveva praticamente la piattaforma customizzabile. Anche questa, se vedete, si muove un po', perché ha questa manovella per decidere, diciamo, per selezionare la distanza. Quindi, se siete alti come me, o se siete più bassi, potete modificare la distanza della piattaforma dallo schienale, dal poggiapetto. E poi, le maniglie, ne avete due, vabbè, una per l'upper back, e una per più per i dorsali, come sto facendo io. Comunque, anche questa è basculante, come vedete, in una direzione. Ok, ho avuto qualche problemino tecnico. E quindi, dicevo, la maniglia è basculante, la piattaforma è personalizzabile per la, è basata all'altezza della persona, quindi, è un ottimo macchinario. E, anche qui ho fatto una serie più pesante con i 40, e poi una serie di riduzioni un pochino più alte con i 30. Stesso ragionamento di prima. Piuttosto che utilizzare un unico range statico, preferisco esplorare range di riduzioni differenti, e poi, magari, nel tempo, valutare, ok, questo è un esercizio in cui per me, cioè, su di me, preferisco questo determinato range rispetto ad un altro. E, magari, posso fare più di una serie in quel range. Generalmente, se faccio più serie, tipo tale, dalle tre in su, non faccio tre, c'è un range diverso per ogni serie. Decido quale, che quantità del lavoro che faccio, e del volume che dedico, voglio trascorrere in uno o un altro range di riduzioni. Quindi, per esempio, posso fare due serie da 8-10 e una serie da 12-15, per capirci. Se un esercizio, secondo me, rende meglio le riduzioni un po' più alte, posso fare solo una singola serie di riduzioni basse e le altre riduzioni più alte, come è stato l'esempio prima del Leccar, seduto. Queste, invece, sono, le alzate laterali da sdraiato con polsiere, che in realtà sono delle cavigliere, ma lo utilizzo come polsiere. Questi cavi qui, credo fossero anche questi, della No Bullshit, a giudicare dal materiale. Molto customizzabili pure questi, se vedete, hanno le altezze regolabili, hanno stack estremamente ampi, io qui stavo utilizzando, forse, sì, sono forse 30 kg, forse un po' di più, non so se questi qui, 52, sono kg o pound, kg o libre, scusate, confondo sempre con i pound. comunque, questo è uno degli esercizi che preferisco per i dettagli laterali, sinceramente. Con le cavigliere messe a metà avambraccio, tolgo di mezzo il polso dall'equazione, non ho, non ho, non ho, non ho stresso i muscoli della mano e dell'avambraccio per tenere, per tenere le maniglie, come nelle classiche alzate laterali con, con, che uno fa con le maniglie, e con questo angolo di lavoro, con i cavi incrociati e non prendendo il sinistro con la mano sinistra, quello che ottengo è che ho una curva di resistenza del movimento più uniforme, quindi non ho un esercizio che in basso non tira per niente e in alto tira tantissimo, no? Se io invece utilizzassi la sinistra con la mano sinistra, quello che avrei è che nel punto più alto avrei la massima tensione, quando in realtà sono più debole muscolarmente perché il muscolo è quasi massimamente contratto, nella parte più bassa quasi non avrei tensione, che è il motivo per cui questa è una delle poche varianti per le deltate laterali dove secondo me uno riesce ad andare a cedimento e accedere effettivamente al deltate laterale e non altro e non si, non inizia a sentire i trapezzi o inizia a esserci dei compensi per portare avanti il movimento. Poi dopo una buona mezz'ora ad aspettare che si liberasse questo macchinario e ho fatto una latta subita del Lamber, in realtà questa la faccio anche a Roma solo che evidentemente è una versione differente del macchinario quindi un pochino un pochino diversa da quella che utilizza Roma non so come mai c'erano questi questi resti di non so che cosa di cinghio o fascio non so che cosa qui la cosa simpatica è che mi sono alternato con un ragazzo perché a un certo punto gli ho chiesto gli ho chiesto quanto te ne manco lui mi fa non so altri 3-4 stava facendo tipo 300 serie su l'altra perché prima di te ho caricato non so se li vedete i dischi però ovviamente ho caricato qui a Roma la faccio forse un pochino più pesante più ho caricato comunque una sessantina per parte quindi tipo 20-25 kg più di quanti stava facendo lui alla morte e quando mi ha visto caricarsi di più ha detto vabbè no leviamo 10 e ha provato a farle con 10 kg in meno io mi sono fatto le mie due serie top e back off e me ne sono andato anche perché diciamo quando state in giro siete stanchi per i discorsi fatti prima non penso che mettersi lì a fare tanto volume abbia senso è un allenamento dove più che altro volevo volevo andare a provare la palestra senza dubbio provare magari qualche macchinario che non conosco che non ho che non ho a disposizione giusto per sentire che per dire di averlo provato e per il resto ho fatto qualche cosa che magari avevo anche nel programma perché questa per esempio è un macchinario che faccio comunque spesso però insomma non è che sono stato lì a vedere cioè non era un workout troppo sensato nell'ottica di una progressione futura era più facciamo un allenamento sforziamoci spingiamo dove possibile con cose che magari più o meno conosco trovando il peso giusto e poi si verrà questo comunque è un macchinario che secondo me è preferibile fare in variante unilaterale a volte la faccio con entrambe le mani per una questione di tempo perché ovviamente ci vuole il doppio del tempo a volte non ne ho però è un macchinario che diciamo fatto in modo fatto unilateralmente uno si può applicare leggermente di lato e mettere il gomito nella giusta linea di tirata rispetto al polso e alla spalla perché se lo fate con due a seconda di quanto avete larghi le spalle e di che mobilità avete a livello del polso in supinazione in supinazione può risultare fastidioso è ovviamente un macchinario dove la massima tensione è in massima contrazione quindi è un po' difficile pensare di portare lì dietro il gomito esattamente lì da col torace soprattutto quando iniziate ad essere stante ok questo era tutto fatemi sapere se è un format che vi piace o altri workout da parte da commentare e per il resto ci vediamo insomma al prossimo video ciao a tutti